Ci colleghiamo subito con Rai Pubblica Utilità, per noi c'è Alessandra Canale, buongiorno. Sì, Giusefine, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai detto tu, purtroppo la viabilità è fortemente compromessa dalle avverse condizioni atmosferiche. Ad ogni modo, in queste prime ore del mattino la viabilità è fluida, ma destinata ad intensificarsi ulteriormente per i consueti spostamenti pendolari dovuti all'inizio delle attività lavorative e scolastiche, ad eccezione, come poc'anzi hai detto, a seguito di un'ordinanza del sindaco, rimarranno chiusa le scuole a Roma e anche a Napoli. Viabilità questa mattina compromessa dalla neve. Infatti sta nevicando su molti tratti stradali e autostradali, in particolare l'autosole in questo momento sta nevicando tra Rioveggio e Aglio, ma anche sull'A7 tra Novara e Milano, ma anche tra Predosa e Serravalle e Scrivia. Quindi giova a informare tutti voi di partire equipaggiati di pneumatici invernali o catene a bordo. Ma anche la viabilità è compromessa dalla nebbia e dal vento forte e anche dalla pioggia. Peraltro oggi c'è uno sciopero del trasporto aereo, quindi complicherà ancora di più la viabilità. Come di consueto monitoriamo le immagini di Cigiungoli in diretta proprio dalla 14, qui in area bolognese, come vedete flussi vivaci in entrambe le carreggiate. Il tratto capitolino della 24 invece abbiamo una viabilità più fluida. Ad ogni modo si registrano dei rallentamenti motivati da un incidente, sulla 13 la Bologna-Padova, il tratto interessato da questi rallentamenti rallentamenti sono tra Ferrara e Occhiobello. E poi un'segnalazione di un incidente in Calabria, esattamente a Bagnara-Calabra, e interessa la 2 Autostrada del Mediterraneo. Giusefine, queste al momento le notizie di maggiori lievi per questo venerdì 13 dicembre. Restituisco la linea, buona giornata a te, buon lavoro e l'appuntamento è più tardi. Grazie, buon lavoro anche a voi. Adesso cambiamo argomento, parliamo di calcio. La Roma ha prossimo.